Come ogni estate, la riviera riminese si popola di potenziali clienti di prostitute e con esse arriva l'ordinanza del sindaco per contrastare il fenomeno. Documenti con forti limiti, visto che prostituirsi in Italia non è vietato, e che poco fanno cambiare il panorama di certi ambienti urbani. Dal 20 maggio scorso non è consentito sul suolo comunale di Rimini offrire prestazioni sessuali a pagamento, chiedere informazioni alle prostitute o concordare il prezzo con loro. Chi lo fa? Viene multato con una sanzione amministrativa di 500 euro. Una decina di agenti borghese della Polizia Municipale pattugliano quasi quotidianamente i principali viali del sesso, a partire dal pomeriggio, utilizzando automobili non contrassegnate. Viali che però sono ancora popolati da clienti e prostitute, evidentemente disposti a correre il rischio. Sono già diverse decine i verbali fatti dagli operatori in meno di un mese dalle entrate in vigore della norma. Clienti non scoraggiati che oltretutto si sono visti dimezzare le sanzioni rispetto all'anno precedente. È salita le cronache l'episodio di un cliente abituale, un sanmarinese cinquantenne, che a metà giugno, sorpreso dai vigili, si era allegrato dopo aver visto che la sua sanzione era la metà di quella inflittagli nell'inverno scorso. Per chi intende eliminare la prostituzione dalle strade, la vittoria pare lontana.